E ciao a tutti i miei CicoFreamover, oggi siamo tornati con un nuovissimo Ragazzi, questo oggi siamo sul server VGFWGamersFail, che è il server di Lion, perché come sapete Io seguo, vabbè, Lion su Youtube E oggi siamo qui per iniziare una nuova serie che si alterna a Minecraftita Dato che ormai Minecraftita è una cosa piuttosto noiosa Cioè, se uno vuole farsi una serie in sopravvivenza normale, se la fa per conto suo È un po' difficile registrare sempre, perché non c'è sempre qualcosa da fare Ho deciso di fare la serie fazioni su questo server, che ha delle fazioni molto belle Questo server è basato, diciamo, su delle parole che non si possono dire su Youtube Perché sennò è ciao ciao monetizzazione Praticamente questo server è basato su delle cose che tu vendi al mercatone E ti danno dei soldi Praticamente tu devi costruire la tua base Devi scegliere tra Yakuza o Mafia E niente, io ho già scelto Cioè, come vedete io sono tipo samurai sballato Cioè, sono tipo il secondo e il terzo rank Perché gioco da quando ho iniziato a giocare a Minecraft su questo server E dato che mi hanno appena distrutto la base Perché mi hanno trovato la base e sono riuscito a salvarmi queste cose Ne andremo a fare Andremo a farci una nuova base dove possiamo, diciamo, trovare le altre basi Distruggerle, crescere su questo server Quindi allora, per prima cosa mi ingrandisco un attimo la chat Ecco fatto E direi che possiamo andare alle spawn Ok, qua c'è una base All'interno della città principale che è Amsterfell C'è tipo il mob spawner dove tu puoi fare esperienza Puoi raccogliere lo zucchero Che poi puoi vendere alle fogne In cambio di molti soldi Magari vi faccio vedere Allora, io non ho moltissimi soldi ancora Questi qua sono i miei soldi 6.445 euro Però vi posso dire che con, diciamo, il mio metodo di coltivazione Di tutte queste risorse che poi possiamo rivendere al mercato Io ho guadagnato Posso guadagnare Cioè, mi è capitato di guadagnare Tipo 3.000, 4.000 euro in mezz'ora Quando la coltivazione E andare a vendere Tutte queste cose qua Quindi è una cosa che frutta Io non ho ancora Avevo una fazione Diciamo che avevo creato per proteggere un po' la base Che però ho tolto Perché, diciamo, non serviva più a nulla quella fazione Era solo per proteggere la base Si chiamava FreeWGF Però non Non era Cioè, non c'era nessuno C'era solo io in fazione La pecca di questo server è che Qualche volta lagga Perché probabilmente Non Io non so Non ho mai parlato Cioè Diciamo Di Di vista O altre cose Nel senso Non ci siamo Di vista non ci conosciamo Quindi Non so che connessione abbia dato Lion Per questo server Però qualche volta Lagga proprio il server Quindi Qualche volta in chat Magari se laggerà in futuro Venti Perché Eh, c'è la base C'è la base La sopra Raga, qua C'è una base No No Noi possiamo entrare e spaccare tutto Cioè voi magari adesso mi starete insultando Tipo dicendo ma prima perché Perché vai Distruggi una base a questa povera ragazza Che magari c'ha Ragazzi è il server Lo scopo del server è trovare le basi E distruggere Mia regina Benvenuti nel regno della vostra regina Ok Wow Ok forse No ma raga Abbiamo trovato No vabbè No adesso io mi voglio impostare la casa qui No ma raga abbiamo trovato Oddio speriamo che qua mi dice Entering Wildness Ok Così posso costruire No ma raga abbiamo trovato Non ci credo No ma abbiamo trovato Avete presente tipo Quelle persone Che tipo hanno gli schiavi Quelle femmine che truffano Magari sono anche maschi Le truffano Le altre persone Eh no ma io non posso Eh no ma io non posso Ma vabbè Proviamo Join Join No F Join Mia Regina Passione solo se è invitato Cazzarola ragazzi Allora adesso ci segniamo Le coordinate Che naturalmente vi oscuro Perché per Per il bene di questa persona Vi oscuro le coordinate Perché non mi piacerebbe Cioè voglio Sapere solamente io Dov'è Questa base Così la possiamo trollare Un giorno che è online Ok quindi Home Andiamo alla casa Frediamo tutti Tutti i pezzi Pezzettini che abbiamo costruito Ragazzi abbiamo fatto una scoperta Incredibile È anche tipo un quarto d'ora Che sto registrando Niente taglierò tutto Farò uscire una Prima parte di due minuti Però Il Diciamo Quello che dobbiamo fare In Quello che dobbiamo fare Nella nostra In questa puntata È Creare Una Eh Fazione Creare una base Ed è quello Bene 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 Abbiamo già un bel po' di risorse Redstone Utile Qualche volta si bugga Un casino Eh Sembra una base piccola Cioè in realtà è tutto costruito su un tunnel Ci siamo nati parecchio sfigati C'è uno qua Oddio c'era uno lì Con noi Oddio raga Dove eravamo noi C'era un tizio che scavava Lo sentivo E Niente Niente Nulla ragazzi Allora in questo episodio Non siamo riusciti a creare la nostra base Perché c'era un tizio Che Ci stava Diciamo per Killare Meno male Che siamo riusciti a scappare Perché se perdevo Tutte ste call Sono andato un attimo Un attimo in panico Ragazzi E Nulla ragazzi Abbiamo trovato una base Ci siamo segnati anche le coordinate Ci torneremo Eh Sicuramente E Nulla ragazzi In descrizione trovate la mia pagina Instagram Ufficiale Eh Andate a guardare anche Il canale Attivate la campanellina Per non perdermi nessun mio fantastico video E Nulla ragazzi Noi ci vediamo nel prossimo video Buona giornata E Ciao da Fibromber